Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, lo vedo dai vostri occhietti che lo stavate aspettando, la mia reazione, il mio commento sull'arrivo di Piontech al Milan. Prima di iniziare però mi raccomando ragazzi, spolliciate, mettete like, fatemi sapere che ci siete, fatemi vedere che siete vivi. Per quanto riguarda Iguain parlerò poco, diciamo, del lato affettivo, perché ci ho fatto già un video, se non l'avete visto mi raccomando, andatelo a vedere. Parlerò sì di Iguain, ma più a livello economico, perché ho trovato un articolo molto interessante che ho qui davanti, ogni tanto butterò l'occhio giù perché non voglio sbagliarmi con le cifre, ma voglio parlare invece a cuore aperto per quanto riguarda Piontech. Partiamo da Iguain. Iguain, Milan ha preso dalla Juve, c'era un prestito oneroso di 18 milioni di euro, più l'eventuale poi riscatto fissato a 36 milioni di euro. Molti stanno chiedendo, sì, ma adesso che va il Chelsea, come funziona? Il Milan comunque deve pagare 18 milioni di euro? Assolutamente no. Pagherà indicativamente la metà di questo corrispettivo, vale a dire circa 9 milioni di euro. E questo che significa che gli altri 9 milioni di euro comunque vai a risparmiarli. L'altro risparmio sta ovviamente nel non riscattare il giocatore, quindi altri 36 milioni di euro. E poi si risparmia anche la metà dell'ingaggio che aspettava di Iguain. Quindi indicativamente se Iguain doveva prendere circa 9 milioni e mezzo di euro netti, mi raccomando ricordate che netti quindi sulle casse del Milan tipo gravavano il doppio almeno, significa che il Milan ha pagato al giocatore solo 4 milioni, solo tra virgolette, 4 milioni e mezzo di euro netti sempre. Quindi al Milan più o meno sempre il doppio. Altra cosa interessante, sbircio perché non voglio sbagliare, considerando ciò che ha fatto Iguain al Milan, vale a dire 22 presenze, 8 gol e 3 assist, significa che ogni apparizione è costata al Milan circa 600 mila euro. Il dato che fa ancora più ridere è che i gol di Iguain sono costati circa 1,7 milioni di euro a gol. Milan mette da parte quindi un bel gruzzoletto di soldi che ha deciso di reinvestire in Piontek, Piontek polacco classe 95 quindi a 23 anni, ha segnato già tantissimo nel Genoa, considerando tutte le partite nel totale tra campionato e Coppa Italia ha fatto 21 partite e 19 gol, quindi numeri veramente altissimi. In campionato ha fatto 13 gol in 19 partite, mentre in Coppa Italia 2 partite e 6 gol. Cos'altro voglio dirvi? Allora, si parla di un ingaggio di 2 milioni di euro, quindi capite che è la metà della metà più o meno di quello che prende Iguain, anche di meno, meno della metà dalla metà, è ovvio ragazzi, non diciamoci cazzate che Iguain mancherà tanto a livello, come dire, come dire, come dire, a livello tattico e tecnico Iguain è attualmente secondo me molto più forte di Piontek, però credo che la voglia di stare in una squadra faccia veramente tanto e faccia la differenza. Non è un caso che Iguain aveva iniziato un po' male, poi si era ripreso, poi dopo la Juve è praticamente morto. E capite che avere un giocatore in squadra contro voglia non fa bene né a lui né alla squadra, né a nessuno, neanche ai tifosi, perché pur avendo tanta pazienza con Iguain, era una pazienza che stava finendo, perché insomma ha giocato sicuramente al di sotto delle sue potenzialità. Arriva Piontek, che ovviamente deve dimostrare tanto, deve dimostrare tantissimo, sei mesi fatti alla grande non significano che Piontek sia il nuovo Lewandowski, per intenderci. Io non lo conoscevo, sono sincero, quando giocava nel Cracovia, se non sbaglio, non lo conoscevo assolutamente, perché insomma il campionato polacco non lo seguo. Probabilmente ci avrò anche fatto una schedina sul Cracovia, magari l'avrò anche persa per colpa di Piontek, però non lo so, quindi non lo insulto per questo. Sono sicuro che perlomeno a livello di voglia di fare ne avrà decisamente di più rispetto ad Iguain, deve mettersi in mostra, deve dimostrare tanto, lo ripeto, deve dimostrare tanto. Tornando al discorso economico, il Milan tra i soldi che spende per Piontek, quindi 35 milioni cash subito, più massimo 4-5 milioni di euro di bonus, e considerando anche i 2 milioni di euro di ingaggio del giocatore, al netto di tutto ciò che risparmio, che vi ho detto prima, il totale del risparmio è intorno ai 12 milioni di euro in un anno, quindi capite che sono comunque delle cifre molto molto importanti. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questo arrivo di Piontek, io sono molto fiducioso, speriamo che... No, non vi preoccupate se sto facendo sto gesto solo per la miniatura, perché altrimenti dopo mi dimentico di farla. Ok, aspetta che faccio la miniatura. Fatta. Sono curioso di sapere anche voi cosa ne pensate, sono curioso di sapere anche se ce l'avete al fonte a calcio, cosa decidete di fare adesso, lo date via, lo tenete, per voi è un danno oppure è una cosa buona che sia andato via. Fatemi sapere, sono qui a leggere tutti i vostri commenti. Per la prima ora rispondo a tutti, poi dopo magari pian piano, ecco, evitate di scrivere cagate, cioè tipo ciao, non rispondo. Se lasciate invece un commento sensato vi risponderò con molto molto piacere. Per adesso è tutto e alla prossima, ciao!